Chi bene incomincia è a metà dell'opera e l'Ancona l'anno lo comincia bene. La Befana regala tre punti d'oro ai padroni di casa. Non rimane nulla nel suo sacco per gli ospiti. Anno nuovo, vita nuova, vecchio derby, il 48esimo per l'esattezza. Ancona e maceratese di fronte l'uno contro l'altra nel giorno dell'epifania, della rivelazione. Due squadre d'alto bordo che hanno raggiunto l'alta classifica con cammini differenti. L'Ancona nella prima parte ha deluso. Dai Dorici ci si aspettava di più. Otto punti dalla vetta sono un irto muro da scalare per il nuovo tecnico Favo, chiamato nel girone di ritorno a una remuntada che avrebbe del clamoroso o quasi. Gli vengono in aiuto i nuovi acquisti Bellucci e Bricca, in campo dal primo minuto. Al contrario, la maceratese neopromossa ha sorpreso positivamente tutti per il gioco, l'entusiasmo e di conseguenza per i risultati ottenuti. Infatti, i biancorossi di Di Fabio sopravanzano quelli di Favo. Stesso numero di gol fatti, di gol subiti e di giocatori schierati. Tante affinità, ma cinque punti di diversità tra le due. Splende il sole ad Ancona, terreno in perfette condizioni. Giornata biancorossa, oggi pagano tutti, anche gli abbonati. Tanti tifosi che gremiscono le opposte curve, tanti quelli provenienti da Macerata. Maceratese decimata, anzi azzoppata. Di Fabio deve rinunciare a Luisi, Carboni e Capparuccia, appiedati dal giudice sportivo. Entrambe hanno chiuso bene l'anno, ambetue battendo la vittima predestinata a Strea. Vediamo insieme come hanno aperto il nuovo. Ancona in maglia azzurra. Nemmeno un giro di lancette ed è subito Ancona. Barillaro serve in profondità Bellucci, diagonale troppo aperto, palla out. Al sesto è Borrelli su calcio da fermo a chiamare Marani alla deviazione. Ottavo, angolo di Borrelli. Artiaco gira di testa sul primo palo, ma non inquadra la porta. Dopo i primi dieci minuti, affirma Dorica, al dodicesimo passa la Maceratese. Punizione al limite dell'area, battuta da Orta. Palla che sbatte sulla barriera e torna sui piedi dello stesso Orta, che non ci pensa su troppo e sfodera una sassata di destro che non lascia scampo all'incolpevole d'Arsie. Ancona a zero, Maceratese uno, Mario Orta. Che gol ragazzi! L'Ancona non si abbatte, anzi pareggia due minuti dopo. Corner dalla destra, conclusione di Bricca. Palla ribattuta che però filtra in area Maceratese. Il più lesto di tutti è Eramo, che a tu per tu con Marani non fallisce la ghiotta occasione e insacca il pareggio dorico tra le vehementi protesti e ospiti. Ma per Strippoli di Bari è tutto ok, così Ancona uno, Maceratese uno. Gol di Simone Eramo. Continua l'Ancona, ventitresimo, corner dalla destra. Salta Eramo a centro area, quasi indisturbato. Inzuccata debole, Marani blocca. Minuto venticinque, ancora corner dalla destra battuto da Borrelli. Salta più alto di tutti Labriola, che inzucca di testa. Il cuoio passa laddove Marani non riesce proprio ad arrivare e rotola in rete per il raddoppio dell'Ancona. Ancona due, Maceratese uno, Claudio Labriola. Il tris d'Orico un quarto d'ora dopo. Ancora da corner. Esce male Marani. La palla rimane in area maceratese e stavolta è Artiaco a porta vuota ad insaccare il terzo gol dell'Ancona. Ancona tre, Maceratese uno. Luigi Artiaco. Davvero una maledizione oggi, corner, per la squadra di Di Fabio. Chiude il tempo uno squillo di Melchiorri, che chiama l'intervento d'Arsie. Finisce così la prima frazione di gioco. Ancora tre, Maceratese uno. Inizia la ripresa. Comincia la Maceratese, che entra in campo con maggiore grinta e propositività. Al quarto, Meichiorri ruba palla e vola via. Il numero 11 ospite libera il destro ma non c'entra la porta. Un minuto dopo però ricomincia il discorso l'Ancona. Eramo libero a centro area. Non impatta il cuoio con il cabezon. Sesto, Borrelli si accentra. Sente l'arrivo di Artiaco alle sue spalle. Lo serve in area. L'ex Isernia sgancia il mancino. Marani c'è. Al nono, Orta lotta come un leone in area Ancona. La difesa di casa si salva in corner. Ma da quel corner si origina il contropiede locale. Fa tutto da solo Bellucci. Una galoppata di 50 metri. e per poco non la mette nel sacco. Cosa che invece gli riesce al trentaseiesimo. Quando Bricca sulla sinistra gli mette una palla d'oro in area. Che lo stesso Bellucci capitalizza al massimo firmando così il poker dell'Ancona. Ancona 4, Maceratese 1. Luca Bellucci. Prima partita e primo gol per lui in maglia d'orica. In chiusura un calcio di punizione del neoentrato negro che fa la barba al palo di D'Arsie. E' uno show acrobatico del giovane anconetano Barillaro che nell'occasione evidenzia anche la prontezza di Marani. Finisce così questo derby. Ancona 4, Maceratese 1. Una prova di forza della squadra di Favo. Buona Ancona. Squadra concentrata, cinica, forte e che a tratti ha regalato bel gioco. Se son rose... La Maceratese è stata fortemente penalizzata dalle assenze. Oggi era praticamente una Maceratese 2. Ma forse l'unico rimpianto per la rata è aver sbattuto contro un'Ancona che sta diventando quello squadrone che tutti ipotizzavano così a inizio campionato e che forse solo ora sta facendo vedere ciò che vale. A fine partita lo sfogo della presidentessa della Maceratese, Maria Francesca Tardella. Un anno che comincia da domenica 30 dicembre, quando è stata preparata questa sfida in maniera proditoria da un arbitro e dal suo staff che ha fatto in modo che noi venissimo a giocare con la squadra decimata. Forse se fossimo venuti con la Juniors avremmo fatto più bella figura. Chiedo scusa, questo non toglie nulla, assolutamente nulla alla vittoria dell'Ancona che ha vinto con pieno merito, ma toglie molto alla Maceratese. Quello che chiedo è se la Maceratese che paga gli stipendi, che vive di vita propria un campionato onestissimo, deve essere fatta fuori in questa maniera. Io chiedo questa cosa al presidente Tavecchio perché la mia intenzione è di ritirare la squadra. Se questo deve essere, questo sarà. Perché non è tollerabile che ci venga decimata la squadra in questo modo, ci si dica chiaramente chi deve fare che cosa. Ripeto, io credo che l'Ancona oggi abbia vinto con assoluto e pieno merito. L'unica nota negativa che posso fare è nei confronti dello staff che era in campo e nei confronti dei raccattapalle che hanno dimostrato una maleducazione fuori dall'ordinario. A Macerato una cosa del genere non sarebbe mai successa. Perché abbiamo il rispetto delle squadre che vengono e l'onore di poterle accogliere in maniera degna e decorosa, non come oggi è successo. Quindi ripeto, l'Ancona ha vinto con pieno merito, ma io penso che in settimana ci sarà una riunione tecnica, una riunione con la società e molto probabilmente se non avremo risposte serie da parte della Lega Nazionale di Lettanti ritireremo la maceratese da questo campionato.